Quello cos'è? Quello è un mostro puzzolette! Si sa di chi può! Ma dobbiamo attraversare il ponte se vogliamo tornare da Whiff! Io sono d'accordo con Percy, allontaniamoci da qui! Dovremmo prima dare un'occhiata. Dopotutto siamo il grande club dell'avventura. Torniamo indietro! Scappate, scappate, scappate! Ehi, diventerà puzzolette! Non ci ha presi. Aspettate, dov'è Percy? Amico mio! Sono qui! Aiutatemi! Forse dovrei andare ad avvertire tutti a Norrenby. Sapete? Si trova nella direzione opposta, dov'è più sicuro. Qualcuno mi aiuti! È troppo, troppo puzzolette! Andiamo, dobbiamo fermare quel mostro! Sì, dobbiamo salvare Percy! Avanti! Questa è un'avventura per il grande club dell'avventura! Questa avventura puzza! Bella battuta, Needlemore! Aiutatemi! Andiamo a salvare Percy! Aspettate, qual è il piano? Prendiamo quel puzzolette! Inseguiamo quel mostro puzzolette! Vi sentite bene? È troppo puzzolette! Percy è troppo lontano! Io e Thomas possiamo raggiungerlo! Andiamo a velocità massima! Il centro di riciclo di Whiff ha un odore peggiore del solito! Aspettate! Qualcuno di voi ha visto Whiff? Forse il mostro puzzolette ha preso anche lui! Che possiamo fare? Io direi di arrenderci, ma sapete... Poi Thomas direbbe... Siamo il grande club dell'avventura! Non ci arrendiamo mai! Ero sicuro che l'avresti detto! Da che parte saranno andati? Laggiù! Sono diretti verso il tunnel! Grazie mille! Grazie.